Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di Queltaleale, eccoci qui di nuovo con Infamous Second Zone, riprendiamo da dove ci siamo lasciati e avviamo la nostra missione. Nereggio sono arrivato, avevi ragione tu, il Nidolo è pieno di ferraglie elettronica e di parecchio alluminio in avanzo. Dovrai raggiungere la cima del Nidolo, ti arrampicherò fino in cima. Ehi, no no, non fare il pazzo. Ecco, partiamo bene. Scala, scala, prendiamo la scala. Cioè? Ah, esegui uno scala, sì, però perché mi dava quello da premere? Vabbè, premiamo il certo. No, non so per... Oh, un momento. Che è sta cagata, scusa. Dov'è che dovrei andare? Dai, un momento, panico. Vabbè, sti cazzo. Ma altre scale ci sono? Devo proprio usare quel condotto? Io non mi sento sicuro con quel condotto. Così va. Mamma mia che pro. Oppela. Oppela. Spè, spè. Prendiamo la mira. Dove cazzo vai, giovane? Ti so... Ah, dovevo fare il saltino. Il Zack. E dall'altro lato. Ok. Quale potrebbe essere il motivo per il quale riesco ad assorbire il potere da alcuni conduit? Come ad esempio Hank? E non dagli altri, come ad esempio... Ciccio pasticcio. Uno di questi agenti del D.O.P.? Oddio, non dirmi che prima ci hai provato. Ehi! Ora non cominciare con te, l'avevo detto, ok? Voglio solo... Una risposta. No, eh? Non è? Panico! Mi sa che qua... Mannaggia il... Che cos'è? Attaccati... Sto cazzo. Attaccati. Porca puttana. Dai, scalata! Mamma mia! Eh, noi come ben sapete le cose di precisione, non è che siamo proprio... Molto tecnici, eh. Attenzione. Scalino. Siamo qui tipo nei cavi? No, eh. C'è una scala. Perchè fare qui i cavi? Noi siamo cazzuni. Ecco perché. La gente se lo chiede. Eh, tubo... No, scala. Tubo. Attenzione, eh. Ci prova. Oddio. Spostati. No? Pensavo avessero bloccato gli ascensori. Aspetta. Momento. Mamma mia, sai che to sta da qua a premere quadrato? Ma lo faremo, lo faremo. Beh, può darsi che tu sia in grado di assorbire solo il potere da un conduit che lo ha ottenuto naturalmente. Un conduit primario, come Hank o magari Augustine. Gli agenti del DUP hanno preso tutti i loro poteri più deboli da Augustine, quindi forse non possono passarli ad altri. Nemmeno a te. Insomma, mi stai dicendo che dobbiamo andare avanti. Mi pare giusto. Non insistere. La prossima volta, però, cerca di non raccontarmi bugie. Fidati un po' di più di tuo fratello. Attenzione, qua tira vento, quindi secondo me dobbiamo sfruttare il vento per arrivare lì. Attenzione, la prossima ventata. Eccolo lì. Piccione. Palo. Cioè, me le scale, perché ti fa... Vabbè, è uguale. Questa roba dall'interno fa ancora più schifo. Voglio proprio spaccare questo coso. Spacchiamo dai culi. Anche la musichetta, attenzione. Dancing roll. Mi hai riattaccato in faccia. Scusa, Betty, ma... Fammi indovinare un altro momentaccio. In realtà, al momento... Sto scalando l'esterno dello Space Needle. Beh, se non vuoi parlare con me, dillo chiaro e tondo. Ti richiamo io, Betty. Con la debito, però, eh. C'è a fare. Ma siamo tipo a fare il giro. Non è un momento per precipitare. Finalmente, era ora. Vai, fatti io. Ora va meglio. Sono sul ponte di osservazione. Non abbassare la guardia. Qua ci spacca nel culo, te lo dico io. Allora, uno ce l'abbiamo qua davanti. Modalità stealth e qui non funziona. E ci prova. Attenzione. Fai furbo. E che cos'è? Oppela. Ma che t'arrendi? Ma che t'arrendi? Ti prego il cervello, giovane. Sto s'arrendi. Mamma mia. Con cattiva aria. Così. Attenzione. Sfucilamenti. Vai di cross. Vai di cross. Lanciato proprio. Ma che t'arrendi prima. Prima di spari e poi t'arrendi. Attenzione. C'è il motoretto qua. Dov'è? Non è più basso, forse. Vabbè. Come se troviamo una scala, magari. Stiamo col tubo. C'è qualche bocchettone. Stiamo a fare la maratona? Lo scopriremo solo vivendo. Secondo me stiamo a fare la maratona. Attenzione, tubone. Ma questo non è da due giornali. No. Perfetto. Tutto di caffa. E ora di distruggere l'occhio del mito. Deve essere questo a tenere insieme tutto. Che diavolo! Aia. Tu non ti avevo mai visto prima. Eh. Reg, hanno un piccolo esercito qua su. Bene. Sei nel posto giusto allora. Oppure, che non gli piace chi gioca con i loro giocattoli. E basta. Occhio al tipo, occhio al tipo. Ah sì. Stiamo morendo. Stiamo morendo. Stiamo morendo. Stiamo morendo. Via. E basta. Ma che crossone. Scusi. Potrei lanciarla da qui. Vorrebbe un buon tiro. E basta. Sta questo. Scusi. No, il missile ce lo teniamo. Epp. Che cosa? Aia. Un momento. Un momento. Attenzione. Stanno sfracellando i maroni. Un momento non è morto. Perfetto. Andiamo bene. Vabbè, allora il missile lo ne lancia. Glielo va. Amicizia sempre. Questo. Così. Cattiveria. Mamma mia. Poi aumenteremo. Aia. Poi moriremo. Secondo me. Infatti. Morendo. Morendo. Attenzione. Liscio. E basta. Questi non ho capito se escono a buffo. Che sennò mi concentro solo su sto figlio di troia. Via. Terra, uomo. Terra. Così, eh. Amicizia. Un uomo. Ok. Andato. Posso giucciarmelo così magari prendo il potere della pietra. No, eh. Guarda che figli di troia. Dajela. Ancora. Attenzione. Scusi. Attenzione. Alla distanza. No, si è sfampato, no. Dov'era quello che si è reso? Dov'era? E qua. Aspetta. Prima mi ricarico un attimo. C'era qualcosa che si è reso. Vabbè. Distruggiamo il sostegno. Quei cosi che sbolazzano non sono qui. Sono più bassi. Va bene. Funziona così. Non basterà assegarlo. Ottenere nuovi poteri non è un male. Dov'è? Ah, qui. Tipo? Ho capito una sega. Questa sarà una cosa epica. Siamo sicuri? Dica. Cosa devo fare? Non lo dice? Mai andare per il sottile. È negativo. Beh, dettagli. Si trascorre troppo tempo tra le uscisione della tua serie. Ah, schianto orbitale. È un cazzo. Ah, proprio tipo. Wow, da primidi. Amicizia. Spero che Reggi si coda lo spettacolo. E? Sostegno andato. Quartiere Science Center. Vi ho perso. Mi ricevete? Non ricevo segnale. Lei? Niente al di fuori della nostra zona. Sono un piccolo danno. Sì, Reggi. Troviamo dei conduits primari e assorbiamo altri poteri. Siamo i padroni delle strade. Facci piano. Di alcune strade. Solo quelle più vicine. Ok? I DUP controlla ancora l'altro 98%. Ma li abbiamo cacciati dallo Space Needle, dai! Hai distrutto il centro comunicazioni, ok? Non ci sentiranno, ma non sono stupidi. Per cacciare completamente i DUP da Seattle ci vorrà tempo. Siamo appena arrivati. Conosci il proverbio? Un viaggio di mille miglia comincia sempre prendendo a calci qualcuno. E chi l'ha detto? I cinesi. Ok. Quindi? Cosa dovrei fare? Fammo una cosa random? Questo mi ispira fiducia. La nostra bandiera. Non è uno dei tre fuggitivi. Completata la sfida. Perfetto. Otto potenziamenti disponibili. Ma secondo me qualcosa possiamo anche comprarcela. Non ne sono certa. Lo sbandieratore è fuggito prima che arrivasse in DUP. Delsin, ho chiesto in giro dei bioterroristi che sono fuggiti. Regge, mi sa che mi serve un addetto stampa. Ma di che diavolo parli? La gente qui comincia a chiamarmi lo sbandieratore. Che diciamocelo, è da sfigati. Credo che sarebbe una buona idea se te ne andassi dallo Space Needle adesso. Voglio dire, perché non il giustiziere è affumicato? O magari Smokeman? Ascolta, cercherò di scoprire qualcosa sui bioterroristi che sono fuggiti. Finché non torno a dirti cosa ho scoperto, perché non provi a sabotare qualche altra operazione del DUP? Sempre in amicizia. Fai ritirare le milizie DUP dalla città, quartiere per quartiere. Riduci la loro influenza completando le missioni secondarie dei quartieri. Distruggi i centri di comando mobile. Devasta le attrezzature e le fortificazioni del DUP. Trovare le telecamere nascoste e gli agenti sotto copertura. Abbatti e assorbi i droni traccianti. Ispira la popolazione disegnando graffiti. Perfetto, quindi dobbiamo fare un po' di tutto. Ma prendere anche a cacciare gente vale. Secondo me non tanto, però. Adesso qui ci sono dei cosi da raccogliere. Perfetto, ce li ciucciamo o almeno potenziamo qualcosina. Perfetto. L'altro è qui dietro o è sopra? Ok, probabilmente... Ah. E come cazzo ci arrivo? Scusa. Posso sparargli per farlo scendere? No, eh. Quindi? Vai. Eh, no, no. Al volo non funziona. Perfetto, quindi l'abbiamo... Scusi, un'amicizia. Che c'avete con me? Aspetta, un momento. Queste cosa sono? Non me lo dà sul... Un momento, eh. Vabbè. Un'amicizia. Non so chi siano, ma... Con cattiveria non mi fa mo' dei danni. E basta. Dov'è l'altro? Dov'è l'altro? Facciamo quel furbo. Spezzo le mani. Che fa? Sfugge. Randellate sulle gengive. Sono quelli che abbiamo incontrato pure sotto la... Sotto passaggio, quindi... Che cos'è? Ok, andiamo a vedere... Sta roba. Niente. Ah, droga distrutta. Attenzione. Abbiamo fatto... Piacere. Cosa dobbiamo fare? Ah, ok. Potenziare qualcosina. Allora, andiamo nei poteri. In realtà possiamo potenziare sia quelli che già abbiamo. Incrementa a 3 la riserva massima di missili cenere. Questo qui non l'abbiamo utilizzato molto. Proiettile di fumo. Potenziamento successivo. Il consumo di energia da fumo non sarebbe male. Esplosione di cenere. Ah, questa era quella caricata. Scatto fumo. Ce l'abbiamo. Assorbi fumo. Potenzione di incrementa del 20% la riserva massima di energia di fumo. Ecco, questa non sarebbe male. Assolutamente. Visto che con il fumo ci facciamo praticamente tutto. Assorbi le fonti di fumo nella metà del tempo. Anche questo non sarebbe male. Questo anche. Scatto nel condotto. Mamma mia. Allora, famo che. Assorbimento rapido, sì. Due frammenti. Doppio scatto aereo. Due frammenti. Ci può stare. E anche qui magari... Vediamo. Uno. Due. Perfetto. Proiettile di fumo. Massimo. Ma che ce frega. Un frammento. Vabbè, per adesso ce li teniamo. Missile di cenere. Volendo. Eh no, quattro frammenti sta cippa. Poi i frammenti magari me li riprenderò un po' per conto mio. E allora, adesso quindi sostanzialmente possiamo andare a conquistare un po' di quartieri per conto nostro. Ma vediamo se ci sono comunque altre missioni. A quanto pare non al momento. Quindi. Qui ci sono delle telecamere. Non so, credo siano queste le telecamere nascoste come ci dice la leggenda. Quindi queste non dovrebbero contare però. Andiamo qui a sinistra. Dovrebbe esserci... Ha un drone che sta già volando. Eh, non se lo becchiamo. Drone? Scusi. Attenzione! Lo stiamo beccando ma... Eh, che cos'è? Ciudiamoci. La cosa del drone. Sì, ogni tanto faremo anche video un po' così alla... Cazzo di cane, nel senso che andremo a spaccare tutto. Resa dei conti del quartiere è bloccato perché effettivamente dobbiamo... Presumo controllare anche queste. Ok, mettiamo il puntino. Qui dovrebbe esserci... Non so se è un altro drone o è... No, qui sotto non c'è quindi... Un momento... Dai che gliela fai? Grande. Posso assorbirlo o devo... Smandrapparlo? Per fietto. Parkour così. Amicizia. Attenzione, l'abbiamo fatto in modo stealth. Mamma mia. Via. Vabbè, ce li troviamo davanti, non è che li lasciamo qui e... Sotto cosa c'era? Mamma mia. Telecamera nascosta ma di brutto. Tu per nascondere una telecamera nei vicinanzi usa il cellulare per localizzarla. Vai. Ah, ok, devo... Devo... 99 centesimi e... Ok, all'angolo un palazzone. Proviamo. La strada è quella, la strada è quella, la dovrebbe stare qui sopra. Forse... Aspetta... Ma... Ah no, ok. Quella? Spiacente, spioni. Ok. E questa è andata. Andiamo anche lì dove c'è il segno della cabina telefonica. Allora, ripassiamo anche qui. C'è un po' di droga. L'amicizia. Eh no, era dall'altro lato ma va bene uguale. E che cos'è questi? Però vedi, mi dà il karma positivo. Quindi in realtà forse è meglio... Non saprei. Questo karma positivo non ci piace. Cos'era la cabina telefonica? Un momento. Ah no, resa dei conti che è bloccata. Perfetto. Allora andiamo verso il... Graffito. Sì, a questo punto mi sa. Ce l'abbiamo il doppio salto. Perfetto. Graffito qui sotto. Vai. La vendetta del calamaro. Mi scusi. Che cos'è? Eccoci. Prontissimi. Scuoti. Cazzuto è cattivo. Carighiamo la bomboletta. Vai calamaro, bomba. Calamaro con i tentacoli rossi. Ci piace. Eh, ho reso il mondo un posto migliore. Ci sta, ci sta. Perfetto, allora abbiamo una nuova missione che faremo nel prossimo episodio. Ragazzi vi ringrazio per aver seguito questo video. Mi raccomando come sempre mettete un bel mi piace, commentate, condividete i video. Ci vediamo con il prossimo appuntamento. Un saluto a tutti da Queltaleale. Grazie. Grazie.